Ano paro per la linea, io l'ho chiuso, ta' a te. Proprio la parola da banane fredda, freddo, navprilato, il mio amore, il mio amore, e l'acqua. Capirà. A me la mia vita di l'argo va a fare l'argo e non pagare ma l'argo e la roba. Un paio dell'argo se lo fa più le informe a me da un paio che un paio ma davanti e me non voglio da lì da lì da lì da lì da me ommere da lì sì C'est la tabula, ma parlare lì, ma lì c'è un element, ma c'è un compagno, ma è un problema, c'è 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 un problema, ma di intellette, maintenant, c'è un problema, e per lì lì, la intellettura, non, non, la intuitive per lì, e poi è iniziata. E' iniziata. Ma poi non mette la ma poi ci sono ma poi ma poi non è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.